La seduta d'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II impressionò tutto il mondo per la sua solennità. Era l'11 ottobre del 1962 ed erano 2540 i padri conciliari con diritto di voto che cantarono il Veni Creator e diedero così inizio ai lavori conciliari. Mai nessun concilio precedente aveva raggiunto un numero così elevato di padri distribuiti fra tutte le nazioni. E mai aveva attirato l'attenzione dei media di quasi tutto il mondo. C'era un'aspettativa incredibile, come dirà Benedetto XVI, un grande desiderio in molti di lanciare una nuova fase di evangelizzazione. E mai fino ad allora la Chiesa si era presentata al mondo nella sua universalità, così come avvenne in questa circostanza. Il discorso di apertura di San Giovanni XXIII fu molto importante e segnò in maniera decisiva le intenzioni del Papa e del concilio. In sostanza, il Pontefice disse che lo scopo per cui aveva improvvisamente indetto il concilio tre anni prima, in seguito, come dirà lui stesso, a un'ispirazione soprannaturale era quello di cercare il modo di comunicare la dottrina di sempre, che non cambiava, a un'umanità che stava invece cambiando rapidamente. L'intenzione dunque era chiaramente missionaria e pastorale, cioè non aveva come scopo quello di affrontare temi dottrinali o di stabilire nuovi dogmi, così come era avvenuto per esempio nel precedente concilio Vaticano I, che nel 1870 aveva stabilito l'infallibilità pontificia. Bensì lo scopo era quello di favorire una migliore autocomprensione di sé da parte della Chiesa, un approfondimento dei misteri della fede e quindi un modo più attrattivo di presentarli all'umanità. Si trattava quindi di passare da un atteggiamento prevalentemente difensivo a un modo di presentare la fede cattolica che ne privilegiasse gli aspetti propositivi, in modo da indurre l'uomo contemporaneo ad accogliere questi principi, avviando con lui un dialogo che lo aiutasse a scoprire la verità. Purtroppo le cose non andarono così felicemente come molti avevano sperato. Il concilio fu oggetto di un'attenzione mediatica che presto divenne anche un'interpretazione distorsiva. Venne così caricato di una portata rivoluzionaria e di rottura con il passato, cioè con la cosiddetta Chiesa Tridentina, quella che era stata plasmata dai lavori del concilio di Trento nel XVI secolo, e questa interpretazione prevalente, se non addirittura esclusiva, condizionò la percezione del concilio stesso presso i fedeli, allontanando questi ultimi dalla lettura dei testi conciliari. La distanza tra i documenti poco conosciuti e l'immagine mediatica del concilio, sempre più predominante, andava allargandosi, favorendo così le ermeneutiche della discontinuità, sia quella progressista sia quella tradizionalista, e ostacolando la comprensione e la diffusione dell'ermeneutica che la Chiesa aveva scelto, che il Magistero indicava, l'ermeneutica, come la chiamerà Benedetto XVI, della riforma nella continuità. Nell'ultimo discorso precedente la rinuncia al Ministero Petrino, rivolto ai parroci romani, Benedetto XVI metterà in risalto come questa immagine del concilio alterata dai media, risulterà nociva per l'accoglimento delle autentiche indicazioni conciliari contenute dei documenti del concilio stesso. Quest'ultimo, il concilio, si è svolto attraverso quattro periodi o sessioni. Il primo, dall'11 ottobre al 8 dicembre del 1962, che si chiuse senza l'approvazione di nessun documento. Il secondo, dal 29 settembre al 4 dicembre del 1963, vide l'approvazione di due documenti. Il terzo, dal 14 settembre al 21 novembre del 1964, vide l'approvazione di tre documenti. Infine, il quarto, l'ultimo, dal 14 settembre all'8 dicembre del 1975, si conclude con l'approvazione di ben undici documenti. Oltre ai numerosi discorsi e messaggi dei due papi che guidarono i lavori, il primo San Giovanni XXIII che guidò il primo dei quattro periodi e San Paolo VI che invece guidò gli altri tre. I documenti si distinguono in Costituzioni, Decreti e Dichiarazioni. Le Costituzioni sono quattro, sono certamente i testi più importanti. Sono quella sulla liturgia, Sacrosantum Concilium, quella sulla Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Vumen Gentium, la Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione, dei Verbum, la Costituzione pastorale sul mondo contemporaneo, Gaudium et Spes. I decreti sono quelli sulle comunicazioni sociali, Inter Mirifica, sulle Chiese orientali, Orientalium Ecclesiarum, sull'Ecumenismo, Unitatis di Integratio, sull'Ufficio pastorale dei Vescovi, Christus Dominus, sul rinnovamento della vita religiosa, Perfecte Caritatis, sulla formazione sacerdotale, Octatam Totius, sull'Apostolato dei Laici, Apostolicam Actuositatem, sull'attività missionaria, Ad Agentes, sul Ministero e sulla vita dei Presbiteri, Presbiterorum Ordinis. Le dichiarazioni, infine, sono quella sull'educazione cristiana, gravissimum educazionis, sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane, nostra etate, e infine sulla libertà religiosa, dignitatis umane. Credo sia corretto individuare il tema chiave del Concilio nel rapporto fra la Chiesa e il mondo. Da qui il carattere pastorale voluto dai pontefici, rivolto a proporre la dottrina di sempre, a un mondo diventato ostile o comunque indifferente. In questa prospettiva vanno letti i documenti conciliari. La Lumen Gentium, che insiste sulla Chiesa come espressione del mistero e come popolo di Dio più che come società giuridica. La riforma liturgica, iniziata dalla Sacro Santum Concilium, per favorire una maggiore partecipazione dei fedeli alla liturgia. La Dei Verbum, per utilizzare la Bibbia come preghiera personale e comunitaria, ma anche come occasione di condivisione, soprattutto con i fratelli protestanti. E infine la Gaudium et Spes, per favorire un atteggiamento di empatia verso il mondo contemporaneo, come condizione per poter avviare un percorso di evangelizzazione. Lo stesso discorso vale per gli altri documenti, che toccano il rapporto con le altre religioni, la libertà religiosa dei singoli e delle comunità di fronte allo Stato, il ruolo dei laici e la formazione dei sacerdoti e dei religiosi. In questa prospettiva si crearono fra i padri conciliari tre tendenze. Quella minoritaria, che leggeva il concilio in chiave di rottura verso la Chiesa passata. Quella sempre di minoranza, che percepì il pericolo insito in questa posizione progressista, ma che non sempre colse l'importanza e la necessità di alcune riforme. E infine la maggioranza dei Vescovi, che valutò documento per documento quale fosse l'atteggiamento più adatto da scegliere nell'ottica del bene della Chiesa. Questo spiega come le votazioni diedero risultati diversi per i singoli documenti, che peraltro vennero approvati tutti con ampie maggioranza. Alla fine del 1965, con il discorso di chiusura del Papa, l'8 dicembre, festa dell'Immacolata, rimasero i documenti. I riflettori si scostarono dai lavori conciliari, lasciando la percezione di un concilio che aveva introdotto una rivoluzione, un concilio che esisteva soprattutto nella testa dei giornalisti. Ma questa lettura del concilio si diffuse anche presso l'opinione pubblica, mentre i documenti conciliari vennero riposti in biblioteca dopo la loro pubblicazione. Cominciò così una lunga e difficile battaglia sull'interpretazione del concilio, la cosiddetta ermeneutica. Da una parte ci fu una lettura rivoluzionaria, che si avvalse anche del lavoro storiografico della Scuola di Bologna, un sudalizio di studiosi fondato da Don Giuseppe Dossetti, che produsse la principale e forse l'unica storia del concilio, tradotta in diverse lingue. Essa si oppose un vescovo, uno studioso, Monsignor Agostino Marchetto, che la contestò attraverso libri importanti che ne misero in dubbio soprattutto l'interpretazione di fondo. Accanto a questa interpretazione progressista ne sorse un'altra di segno opposto, molto meno estesa e meno influente, soprattutto nei primi decenni successivi alla fine del concilio, ma ugualmente impostata nell'ottica della rottura rispetto alla tradizione della Chiesa. Questa lettura del concilio si concentrò prevalentemente nel rifiuto della riforma liturgica e soprattutto nel rifiuto della dichiarazione sulla libertà religiosa, che secondo i suoi detrattori negava alla rivelazione cristiana l'unicità della verità rispetto alle altre religioni. Questo mondo, cosiddetto tradizionalista, andò a costituirsi prevalentemente attorno alla figura di un vescovo francese, Monsignor Marcel Lefebvre, che aprì a Econ in Svizzera e in altre parti del mondo dei seminari nei quali garantiva la formazione dei chierici secondo lo stile della Chiesa precedente le riforme conciliari. Accanto a queste due minoranze che presero i nomi di progressista e tradizionalista vi era la maggioranza dei vescovi, del clero e del laicato, che assurse progressivamente alle riforme previste dal concilio e costantemente accompagnate dal magistero dei diversi papi Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Un magistero in continuità che si sforzò di dettare la giusta interpretazione dell'assise come una riforma e un aggiornamento necessari di fronte ai mutamenti del mondo, di quel mondo che la Chiesa voleva evangelizzare, ma in continuità con tutta la sua storia. Questo sforzo interpretativo culminò nel discorso di Benedetto XVI alla curia romana del dicembre del 2005, in cui il Papa parlò del concilio come di una riforma nella continuità dell'unico soggetto, la Chiesa, ponendo così termine, almeno intenzionalmente, a un lungo e devastante dissidio interpretativo che aveva accompagnato e avvelenato il postconcilio. Naturalmente questo dibattito si svolse prevalentemente in Europa e nelle Americhe, nel mondo occidentale, dove il secolarismo aveva allontanato e continuava ad allontanare dalla Chiesa la maggioranza delle popolazioni e dove si erano sviluppate maggiormente le contestazioni alla gerarchia, da parte sia progressista sia tradizionalista. Altrove, in Africa e in Asia, seppure in modi diversi fra loro, la Chiesa avanzava sulla via di una prima evangelizzazione, subendo persecuzioni e spesso anche il martirio, ma avendo quella caratteristica missionaria che il concilio avrebbe voluto che tutta la Chiesa, in particolare quella occidentale, riuscisse ad assumere.